Quali altre rivoluzioni sono necessarie affinché la rivoluzione tecnologica e digitale possa compiersi in futuro? Per provare a rispondere a questa domanda proviamo a immaginarlo insieme questo futuro, non distante, qui vicino. Proviamo a immaginare la Sicilia nel 2040. Ho fatto un po' di conti con le versioni dei nostri telefoni, avremo l'iPhone 20, avremo delle stampanti 3D a casa con cui stampare oggetti, così saremo autonomi, addirittura potremo stamparci del cibo. Chissà come sarà la nostra mobilità con queste vetture connesse anche loro, e naturalmente le connessioni saranno velocissime a disposizione di tutti, saremo collegati con il resto del mondo, non magari da un ponte di ferro e di cemento, ma da un ponte digitale. È vero quando parliamo di futuro pensiamo sempre a un connotato molto molto positivo, ed è giusto che sia così, però io credo che il nostro futuro abbia anche delle incognite, dei problemi, qualcosa che dobbiamo provare a risolvere. E ce n'è uno in particolare, tra i tanti, che mi sta molto a cuore, perché vedete, nel 2040 tutti gli studi dicono che il nostro paese, l'Italia, avrà circa la stessa popolazione che ha adesso, giusto un poco di più, ma il fenomeno spiacevole è che il nord avrà un po' più di abitanti, mentre il mezzogiorno e la Sicilia ne avrà molti di meno. E questo perché ci sono poche opportunità, ed è un fenomeno che è già adesso in atto. Tanti dei nostri giovani, lo conosciamo con questa triste frase della fuga dei cervelli, sono costretti ad andare via. Badate bene, io sono molto d'accordo al fatto che i giovani possono avere delle esperienze fuori, preferisco chiamarla rete di cervelli, però è anche molto importante che queste persone possano tornare poi, anche nella nostra Sicilia. E allora, per provare a combattere questo problema, credo che sia necessario che no, tutti interveniamo, anche perché se no potremmo trovarci in un grandissimo paradosso, quello di una Sicilia piena di opportunità, ma sempre più vuota. Io nella Sicilia così non vorrei assolutamente trovarmi, quindi voglio fare qualcosa per provare a evitarlo, ma cosa? Questo è sicuramente solo uno dei nostri tanti problemi, e ha sicuramente molte cause, ma vorrei concentrarmi su una, quella che io penso che sia la più importante, e voglio citare un libro, è una frase molto molto importante di Tommaso di Lampedusa. In Sicilia non importa far male o far bene, il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai, è semplicemente quello di fare. Ecco, questa credo che sia una, purtroppo, delle nostre caratteristiche negative, ne abbiamo tante positive, ma questa ce l'abbiamo. Se continuiamo a lottare per qualcosa di piccolo, e non costruiamo qualcosa di più grande, se continuiamo a essere individualisti, se non supportiamo chi fa, ci ritroveremo con quel problema che vi ho detto, e con tanti altri. E allora, quali sono le altre evoluzioni che servono, prima di quella tecnologica e digitale? Io credo che serva una rivoluzione culturale, proprio per risolvere quel problema. E visto che io mi occupo di impresa e di innovazione, proverò a guardarla da questo punto di vista. E sapete, ci ho riflettuto, e credo che, in realtà, fare una rivoluzione e fare impresa è quasi la stessa cosa, perché hanno tantissime cose in comune. Innanzitutto fare impresa è di per sé un piccolo grande atto rivoluzionario. E poi, imprese e rivoluzioni hanno tante cose in comune. Il rischio, l'opportunità, il sacrificio, il coraggio. E allora, proviamo a immaginare che fare impresa può essere possibile. E quindi, se fare una rivoluzione è necessario, fare impresa è quantomeno opportuno, in questo momento storico. Anzi, voglio dirvi di più. Secondo me fare impresa è sexy. È il momento giusto. C'è un mondo lì fuori che inizia a fare il tifo per chi vuole fare impresa. C'è un quadro normativo che migliora. E ci sono tantissime imprese che stanno nascendo. E per darvi una testimonianza di questo lo voglio fare nel modo più sexy possibile. I numeri. Questi numeri rappresentano, il quadro nel nostro paese in questo momento, ci sono più di 6.500 start-up innovative che nascono per risolvere problemi. Ci sono più di 9.000 persone a cui stanno dando lavoro. Ma il dato più bello di tutti è quello, ci sono più di 25.000 soci di queste start-up. Perché sapete, l'impresa e le rivoluzioni non si fanno da soli, si fanno insieme. E noi di solito siamo abbastanza individualisti, invece nelle nuove imprese no, le si condivide, le si fa tutte insieme. E hanno generato un fatturato nel 2015 di più di mezzo miliardo di euro. E immaginate quanto sarà più grande questo numero a fine del 2016, visto che continuano a crescere a un ritmo incessante, giorno dopo giorno, mese dopo mese. E quindi, certo, non possono essere soltanto questi numeri a convincervi. L'idea di fare un'impresa matura nel tempo, ci vuole un'idea, ci vuole un team. Però non è che è l'unica strada quella di fare impresa. Io vi consiglio di farlo, sperimentatelo. È qualcosa che può davvero cambiarvi la vita. Però l'esortazione è fate impresa o la rivoluzione? E se volete fate la vostra o altrimenti aiutate chi la sta già facendo? Perché ce ne sono tantissime persone impegnate nelle loro sfide, nelle loro imprese, nelle loro piccole e grandi rivoluzioni. E allora voglio raccontarvi quelle più belle che ho incontrato in Sicilia in questi anni. E la prima è la Summer School di Libera, l'associazione Nomi e Numeri contro le Mafie. che ogni anno, qui siamo proprio alle pendici dell'Ettra, il mio amico Umberto Di Maggio organizza, e dove ragazzi da tutta Italia si incontrano, utilizzando proprio la metafora dell'impresa, dell'innovazione, per provare a risolvere problemi. Basati su valori molto forti, ma pensando che proprio attraverso l'impresa può essere possibile. Bene, questa è innovazione, innovazione sociale. Un altro caso. Qui invece siamo a Favara, dove Andrea e Florinda, a Farm, Farm Favara, l'avete sentito parlare, diciamo dal loro sogno, dalla loro passione per la diffusione della cultura, dell'arte, hanno creato un centro di contaminazione culturale, dove anche i più piccoli trovano spazio, che alla fine si è trasformato in un'impresa. Sì, è un'impresa perché dà lavoro a delle persone, crea un impatto, un valore nel territorio, cresce, dà un'opportunità, una speranza. Questa è innovazione culturale. E poi qui in Catania abbiamo anche una casa dell'innovazione, si chiama WCAP, dove tantissimi ragazzi provano a fare impresa, lavorano insieme. Le loro imprese sono un qualcosa di fantastico. Ognuno di loro meriterebbe di essere qui su questo palco a raccontare quello che stanno facendo, a raccontare il loro sogno e come attraverso la risoluzione di un problema provano a rendere un po' questo mondo migliore. E questa è sicuramente innovazione tecnologica. E' bellissimo come questi luoghi, alla fine, di innovazione sociale, culturale o tecnologica, in realtà, fanno di tutti questi tre aspetti, il loro valore fondamentale. Ma ci sono anche delle cose in cui mi sono impegnato in prima persona. Perché, per risolvere quel problema di cui vi ho parlato, credo che dobbiamo fare tutti un pezzettino. E questi sono quelli che ho deciso di fare io. Questo è il progetto che noi facciamo con le scuole qui in Sicilia, di diffusione della cultura di impresa. Sapete, io sono diventato imprenditore proprio a scuola. e quindi, forse per questo motivo, credo che diffondere la cultura di impresa a scuola sia importantissimo. In questi anni, più di 50 istituti in Sicilia, più di 150 progetti di impresa dei ragazzi che frequentano le scuole superiori, e ne abbiamo coinvolti più di 2.500. Perché l'imprenditorialità a scuola non è importante solo perché questi ragazzi possano diventare imprenditori, ma è importante perché l'imprenditorialità è una metodologia, è un'attitudine, è un modo di pensare. L'imprenditorialità ti aiuta a risolvere i problemi, a pensare che il cambiamento è una cosa positiva. Vogliamo trasmettere questo tipo di valori e se è vero che il futuro di un paese, quindi anche della nostra regione, si costruisce a partire dai banchi di scuola, fare questo lavoro, questo lavoro di volontariato a scuola, è estremamente importante. E i risultati ci rincuorrono e sono di grandissimo interesse. E poi, per me è bellissimo supportare le start-up. In questi anni l'ho fatto alcune volte, però la storia più bella è quella di Adriana e Enrica di Orange Fiber. Loro trasformano dagli scarti degli agrumi e creano tessuti. È un grande sogno. Quando qualche anno fa ho deciso di aiutarle e di investire, anche se il progetto è bellissimo, ve ne rendete conto, non ho investito sul progetto, ma su di loro, perché il loro sogno, la loro forza, la loro determinazione era un qualcosa di travolgente. E ti accorgi che cerchi di dare la tua esperienza, il tuo supporto, magari anche un po' di soldi, un po' di tempo, e in realtà, da un'esperienza del genere, impari tantissimo. Perché anche se la mia impresa ha soltanto qualche anno in più di quella di Adriana e Enrica, anch'io ho tantissimo da imparare da loro. E questa è una cosa che potrebbero fare tutte le imprese, se ci pensate. Innovare, aiutando chi vuole creare una nuova impresa e creando una contaminazione positiva. E con un'altra donna invece ho deciso di fare una società. Sara è molto attiva nel settore dell'innovazione nell'ambito del food. E insieme abbiamo creato questo ecosistema sul food, il future food, dove ogni anno ospitiamo ragazzi da tutta Europa, dall'America, da varie parti del mondo che ci aiutano a innovare. Uno dei settori in cui siamo leader, quelli del food, con le loro idee, la loro determinazione, i loro talenti, guardandoci dall'esterno, in un ambiente multiculturale, che vedete in questa foto dove sono rappresentati tantissimi paesi e quest'anno li abbiamo avuti anche qui in Sicilia in una bellissima summer school. Però i talenti, così come l'intelligenza, sono equamente distribuiti nel mondo e quindi non vengono soltanto dall'America, dall'Europa, dall'Asia, ma vengono anche da altri posti, anche dall'Africa. Ci sono dei talenti che possono davvero cambiare le cose, hanno la voglia di cambiare le cose, di cambiare tutto, perché non hanno niente. E così quando qualche settimana fa ho conosciuto questo ragazzo straordinario, Chris, che ha l'idea di aiutare i migranti a usare al meglio le tecnologie per formarsi, per migliorarsi e anche per diventare imprenditori. E ho deciso di aiutarlo, di supportarlo, perché la nostra piccola azione, di ognuno di noi, quando una nuova impresa nasce, quando un nuovo sogno nasce, può aiutare davvero a contribuire, a cambiare le cose. e quindi abbiamo visto come tante storie, tante storie che stanno accadendo proprio adesso, utilizzano l'innovazione e la tecnologia per provare a cambiare le cose e quindi a quella domanda che c'era all'inizio, io provo a dare una risposta, ovvero l'innovazione salverà il Sud? Secondo me no, l'innovazione non salverà il Sud, perché la tecnologia e il digitale sono solo uno strumento. Il Sud lo salveranno le persone utilizzando questi strumenti, ma con la voglia di farlo. lo dicevamo prima, fare. E quindi io credo che solo le persone possono fare questa differenza, solo le persone possono salvare, migliorare il nostro Sud. Queste persone siamo noi, possiamo farlo solo noi, insieme. applausi Grazie.